ciao ragazzi eccoci qua ben ritrovati e buon venerdì venerdì che significa anche vigilia di campionato contro l'atalanta una partita che definire importante è forse riduttivo basta dare un'occhiata alla classifica per capire perché è così determinante questa gara allegri parla alle ore 12 quindi ha parlato da pochi minuti e ci ha illustrato la gara di domani prima di tutto vi chiedo di scaricare one football perché su one football se vi state persi la conferenza allegri potrete recuperarla ok e quindi avere a disposizione tutte le informazioni che massimiliano ha dato all'interno della chiacchierata con i giornalisti e poi potete andare a vedere anche la classifica appunto di cui parlavamo prima e capire perché questa partita è così tanto delicata quanto indispensabile al fine del risultato perché siamo lì sia noi che l'atalanta e ci sono come vi dicevo ieri in all or nothing delle partite che devi vincere per forza se vuoi raggiungere certi risultati quindi scaricate one football il link è qui sotto in descrizione e a proposito di all or nothing ragazzi non so se avete visto la serie o addirittura il riassunto recensione che ho caricato ieri sera sul mio canale youtube quasi 50 minuti di video e a questo proposito proprio con all or nothing ho aperto un podcast su spotify nel quale potete riascoltarvi tutti i video che vado a pubblicare di giorno in giorno quindi se ancora non avete lasciato l'iscrizione se ancora non avete trovato spotify su spotify il mio podcast questo è il momento giusto perché sono anche lì adesso mi sono evoluto oggi parliamo di una cosa molto importante e cioè il metodo di massimiliano allegri perché massimiliano allegri è un allenatore che lo sappiamo bene dato che questo è il quinto anno e mezzo di permanenza alla juventus ha sempre avuto un approccio molto particolare alle partite e alla gestione della squadra quando massimiliano allegri arriva la juventus la prima volta e l'ultima volta decide di mettersi a disposizione della squadra per sistemare la fase difensiva mi fa ridere tra l'altro perché durante la chiacchierata al club di sky con caressa allegri dice proprio che quando sistema la fase difensiva poi magari si concentrano su quella offensiva è una volta completata quella offensiva si dimenticano quella difensiva quindi devono tornare indietro e non tornare su quell'altra e fanno questo giochino però ci sta penso che sia una cosa del genere per tutti gli allenatori dicevamo sistema la fase difensiva e poi decide di schierare i giocatori secondo le loro caratteristiche con una disposizione in campo che non è mai fissa perché allegri non è mai concentrato su un solo modulo e poi semplicemente lascia libero spazio ai giocatori lascia molta libertà ai giocatori offensivi soprattutto negli ultimi metri di risolvere la partita con una giocata questo concetto è stato molto estremizzato nella famosa lite con adani all'ultimo anno di permanenza la juventus dove comunque allegri aveva quasi le ore contate o comunque sentiva che il suo percorso a juve poteva finire da un momento all'altro e dove è stato abbastanza irruento anche nelle risposte ci ricordiamo un allegri molto nervoso in alcune conferenze sempre in quegli anni mentre quest'anno io lo so perché ho avuto la stessa sensazione io in primis e poi ho letto nei commenti da parte vostra tante tante conferme che vediamo un allegri un po più tranquillo nelle conferenze stampa c'è anche da dire che ragazzi quando un allenatore va ai microfoni non è obbligato a dire la verità non è obbligato a spiegare la partita non è obbligato a spoilerare come vuole giocare non è obbligato a dirvi quello che poi verrà detto effettivamente ai ragazzi perché se c'è una cosa che ci ha insegnato all or nothing è che le cose si dicano nello spogliatoio e per quanto non si sia visto tutto questo spogliatoio abbiamo visto che delle sfuriate ci sono state e come da parte dei giocatori che si considerano più presenti dentro lo spogliatoio o comunque anche quando quadrado va a puntare il dito su cristiano ronaldo e dirgli che fa parte anche lui della squadra quelle sono cose da spogliatoio ai microfoni devi per forza assumere un atteggiamento anche politicamente corretto non perché lo voglia la juventus ma perché ti viene imposto secondo le regole anche della televisione per dire in cui vai a parlare quindi sono due cose diverse e la saccharità dello spogliatoio deve rimanere tale quindi se allegri in conferenza stampa si mostra tranquillo non è detto che poi sia tranquillo anche nello spogliatoio e anzi penso proprio di no parlavamo di fase difensiva e del fatto che allegri dia un occhio di riguardo no a questa cosa qua perché sa che le squadre forti si basano su una difesa che funziona questo è il suo metodo il suo modo di ragionare il problema di fondo di questa juve è che la fase difensiva non è stata sistemata e non ve lo dico io ve lo dicono i numeri basta dare un'occhiata appunto alla classifica di cui guardavamo prima o comunque alla totalità di quello che è accaduto in questa stagione per la juventus di allegri e potremmo notare una fase offensiva di 27 gol in 18 partite che non è proprio il massimo ma nemmeno tremendissima ripeto non è il massimo ma nemmeno tremendissima non vuol dire che vada bene anzi non va bene la juventus deve fare di più diciamo che forse le partite di champions league ci danno una mano sotto questo punto di vista dato che segniamo quasi due gol a partita in quella competizione poi abbiamo peggiorato il nostro score con il 4 a 0 del celsi ma abbiamo subito 21 gol in 18 partite 21 gol in 18 partite le juventus di allegri non hanno mai avuto questo trend e questo è particolare perché sei vero come vero che la prima cosa che fa allegri sistemare la fase difensiva per poi concentrarsi su quella offensiva la fase difensiva della juventus di oggi non è stata sistemata e va molto male solitamente c'è questo luogo comune che viene confermato anche dalla statistica che dice una cosa chi prende meno gol in italia poi alla fine vince lo scudetto o comunque lo scudetto si vince con i gol subiti meno gol subiti ai meglio è non tanto con i gol fatti quanto più con i pochi gol subiti ripeto la statistica va in questa direzione qui poi non significa che sia una regola del calcio un dato di fatto perché può succedere anche il contrario nessuno lo vieta sarà al campo poi a decidere se quella strategia ha pagato oppure no il problema è che la juventus di allegri ad oggi non si sta giocando lo scudetto e appunto la partita con l'atalanta impone alla juve di vincere per avvicinarsi al quarto posto che le consenterebbe l'accesso alla champions league il problema che oggi siamo a novembre quasi inizio dicembre e il campionato finisce quando finisce col caldo quindi ci sono ancora tanti mesi davanti ma la juventus non può più permettersi di perdere punti per strada soprattutto negli scontri diretti che alla fine potrebbero valere addirittura sei punti quindi sono necessari i tre punti contro l'atalanta sono necessari se la juventus non vuole ritrovarsi in una situazione complicata però la domanda che vi faccio io è la seguente se allegri ha sempre allenato delle juventus di alto livello perché è vero è questo bisogna riconoscerlo ma mi fa anche ridere quando mi dicono allegri ha vinto solo perché avevi giocatori forti beh questa penso che sia una cosa comune a tutti gli allenatori più bravi e che allenano le squadre più forti perché faccio veramente fatica a trovare 5 6 7 allenatori che hanno vinto cose importanti competizioni di un certo rilievo con delle squadre che poi sono scarse o con dei giocatori che poi non si sono rivelati forti può succedere non sto dicendo che non succeda però è molto più facile che vinca l'allenatore bravo che allena i giocatori bravi in un top club e che magari mette anche a disposizione tanti soldi per tornare al discorso super lega il calcio di tutti sni sni il calcio non è di tutti ad oggi il calcio è gestito dai club più potenti che compren giocatori migliori e pagano gli allenatori migliori perché è un business come nel lavoro vero è un business anche qui anche il calcio però allegri quest'anno non si sta giocando lo scudetto e anche il tifoso juventino che ad oggi pensa lo scudetto vorrei abbracciarlo perché è un inguaribile ottimista quindi mi stai molto simpatico bravissimo il problema di fondo è questo io capisco sistemare la fase difensiva capisco cercare di avere una squadra solida per arrivare sul lungo e vincere lo scudetto io queste cose le capisco il problema è che oggi non ci stiamo giocando questo oggi ci stiamo giocando l'accesso alla champions league e quindi questo continuo cercare a tutti i costi l'equilibrio la fase difensiva il cercare di mantenere la porta inviolata per poi fare un gol soprattutto con questa squadra che ci ha dimostrato avere dei cali di tensione incredibile dei blackout assurdi diventa complicato perché è l'allenatore che chiede quella cosa lì può essere anche l'allenatore più bravo della storia a fare la fase difensiva ma se i giocatori poi non si incastrano e se i giocatori non sono disposti a morire per non prendere gol non lo facciamo e dato che abbiamo tante difficoltà nel segnare perché abbiamo tanti metri di campo da coprire quando devi fare la ripartenza abbiamo un attaccante che è forte in certi contesti e in altri no e farlo giocare spalle alla porta purtroppo alvaro murata non è in grado di fare quello lo danneggi abbiamo i giocatori perfetti per un modulo che è pure europeo che è il 4 2 3 1 chiesa sinistra dove l'anno scorso ho giocato molto bene quadrado a destra anche se ovviamente a destro adesso abbiamo il problema legato al terzino quindi quadrado a fare magari il terzino ma sulla destra ci può arrivare e la possibilità di inserire davanti a quadrado kunuseschi per valorizzare un giocatore che fino adesso è stato un punto interrogativo ma che potrebbe essere un giocatore importante determinante anche per giocare in quel modo in ripartenza con kunuseschi che taglia dentro il campo quadrado che va in sovrapposizione e alvaro murata che finalmente potrebbe essere messo nelle condizioni di fare gol grazie ai cross che potrebbero arrivare da quadrado e da chiesa un po come avveniva l'anno scorso insomma se c'è una cosa che davvero non sopporto in allegri tra virgolette ma è una cosa che non ho mai sopportato in nessun allenatore anche con sar mi ricordo che che pensavo perché ci ostiniamo a voler fare questo giro palla veloce con dei giocatori che non sono fatti per quella cosa lì e con l'allenatore che ce lo diceva ho dei giocatori con delle caratteristiche diverse dal mio Napoli non posso fare quella roba lì però proviamo a farla sono i giocatori è inutile che ci giriamo intorno ripeto l'allenatore è importantissimo perché dà dei principi dà delle idee prepara gli schemi prepara le partite non sto dicendo che gli allenatori non siano importanti ma se alessandro è abituato a stoppar la palla guardare davanti e fare il retropassaggio ci posso essere io come ci può essere zinedine zidane in panchina alessandro stopperà palla guarderà avanti e farà il retropassaggio magari per due tre volte l'allenatore continuerà a dirgli alessandro dalla davanti e lui proverà a darla davanti ma poi la sua indole tornerà fuori sarà più abituato ad andare leggero nei contrasti non essere concentrato per 90 minuti arrivato una certa età non possiamo sperare che diventi magicamente bravo forte quello che volete in quella cosa lì è fatto così continuerà a fare così se Bentancur non è in grado di impostare perché ha delle caratteristiche da mediano e non da regista è inutile che gli chiediamo i passaggi puliti se alvaro morata non è bravo a giocare spalla alla porta è inutile che cerchiamo di lasciarlo là davanti da solo a fare reparto da solo mentre tutti gli altri noi ci difendiamo in dieci dietro al pallone e chiediamo anche a morata rifare questo lavoro possiamo fare quello che vogliamo ma le caratteristiche dei giocatori ed è una cosa che abbiamo detto anche prima allegri sceglie i moduli e le disposizioni in base alle caratteristiche dei giocatori non cambiano gli allenatori possono cercare di ovviare a questo problema possono cercare di esaltare il meglio e delimitare il peggio delle caratteristiche dei giocatori perché ogni giocatore ha pregi e difetti ma se da 3 4 anni che tutti gli allenatori che arrivano si ritrovano con bene o male gli stessi problemi e continuano esserci gli stessi giocatori all'interno della rosa e non è un processo ai giocatori sia chiaro perché alcuni giocatori certe cose non le possono fare perché non sono in grado di farle allora cerchiamo di fare un passo indietro dalla nostra idea di allenatore e fare un passo avanti verso quella di ho questa squadra a disposizione è meglio farla rendere per quello che è perché io ho in mente l'ultimo anno di allegri quando si diceva è ma questo continua a far giocare pianic ma tu di che dira il problema è che se continui a far giocare pianic ma tu di che dira manzukic e mi fai il risultato a me non me ne frega niente niente perché l'idea dell'allenatore è quella la visione dell'allenatore è quella il campo conferma che è corretta si traduce il risultato che si traduce in vittoria non ha vinto la champions sì questo è vero e beh ma ragazzi dal 96 non la vinciamo quindi tutti gli allenatori della juventus dal 96 ad oggi hanno fallito perché la champions è l'unico obiettivo questa è l'unica analisi che ci possiamo permettere di fare io penso proprio di no penso proprio che dal 96 oggi ci sono state tante bellissime stagioni per la juventus a me dispiace averne saltate 10 e aver fatto dal 96 al 2021 ma io in tanti anni la tifosa della juve ho avuto dei dolori sì ma anche delle gioie nonostante la champions e quindi è inutile che ci guardiamo in faccia e continuiamo a dire sarri pirlo allegri è però la champions non l'hanno vinta con gli squadroni sì è vero abbiamo avuto degli squadroni alcuni anni eppure i risultati ci sono stati quasi sempre il problema è che adesso da qualche anno a questa parte i soliti risultati non stanno arrivando e ultimamente non sta arrivando proprio la squadra non sta funzionando la squadra è sempre quello il punto perché difendiamo un'idea piuttosto che fare in modo di dimostrare che magari ci siamo sbagliati o comunque quella stessa idea non è applicabile a livello universale perché allegri fino adesso ha avuto delle squadre disposte a morire pur di non prendere gol ha avuto dei giocatori che scendevano in campo e già dal tunnel avevano vinto la partita per mentalità perché facevano paura agli avversari oggi non siamo questa squadra non siamo questa squadra e abbiamo bisogno dell'energia della freschezza e della spensieratezza di alcuni ragazzi che fino adesso sono rimasti ai margini ci sono caio ken pellegrini culuseschi che fino adesso hanno solo guardato come era stato per mccani fino a poco tempo fa e allegri stesso mette mccani e adesso non lo può più togliere quando all'inizio era stato lui a dire non lo so non lo vedo adatto provato convinto confermato e magari può essere la stessa cosa per pellegrini al posto di alessandro e non stiamo dicendo che pellegrini sia nuovo roberto carlos stiamo semplicemente dicendo che in un momento di difficoltà della juventus e nel quale ci sono dei giocatori che non stanno più rendendo come una volta e che comunque per caratteristiche ti faranno fare sempre un certo tipo di gioco forse è giunto il momento di fare un passo indietro e di provare il nuovo che avanza questo è un discorso universale sempre per tutti gli allenatori hai una tua idea benissimo percorrila mettila in pratica faccia vedere funziona sì bene perfetto continuala non funziona è inutile che continuiamo a difendere a quattro con rabbio largo a sinistra è inutile che diamo a morata di far la lotta là davanti da solo è inutile che continuiamo a schierare alexandro e poi arrabbiarci se non è più quello di tre anni fa è inutile che ci arrabbiamo perché rabbio ben d'ancurram si non è il centrocampo più forte d'europa perché sono tutte cose che sappiamo le so io le sapete voi perché abbiamo vissuto tanti anni così forse non le sa allegri perché si è perso gli anni di sarri e di pirlo e allora un consiglio max se è così per velocizzare questo processo di cambiamento eventualmente in modo migliore per migliorare la juve ripercorriti le stagioni precedenti magari guardati all or nothing anche se non è proprio il massimo per capire cosa non è andato l'anno scorso se non fatelo raccontare da alcuni giocatori dei quali magari hai maggiore fiducia perché noi abbiamo della gamba in chiesa quadrado coluseschi morata ken e non la stiamo sfruttando ci stiamo fossilizzando su questa idea di è abbiamo sempre vinto così quindi funzionerà ancora così continueremo vincere così abbiamo vinto così perché con i giocatori che c'erano una volta questa cosa funzionava oggi forse non è più così ed è questa una delle grandi cose che mi lasciano perplesso perché stiamo continuando ad andare avanti con una strada che abbiamo visto non sta funzionando punto ridomanda quindi